Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo viaggio Sì, avete capito bene Solo Spade Laser Challenge Sono appunto l'oggetto ritornato In In questo periodo di Star Wars Quindi lasciate un bel like Sì Lasciate un bel like E Scrivete nei commenti se vi piace Star Wars L'altro il negozio è totalmente buggato Va bene Comunque Vi ricordo di iscrivervi A questo canale Iscrivervi al canale di Pari dei Zavoli E niente Andiamo avanti Solo spade laser challenge Potremmo usare solo le spade laser Ma sarà bella come challenge Ve lo assicuro Andiamo a caccia di spade laser Se sono state rimosse Non sapete cosa dico Comunque andiamo in una città abbastanza tranquille In cui le possiamo trovare E Boom Che città le possiamo trovare le spade laser? Cioè da nessuna parte si trovano le spade laser Dove si trovano le spade laser? Allora andiamo 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 a molly Di solito non ci va troppa gente a molly E si trova un buon loot Molimoletti Ovviamente Del tablano di Star Wars Che è bellissimo Ragazzi Che roba È strabello Ragazzi È un caos enorme Perfetto Lui sta usando il missile Quindi ha sciopato il pass E noi Andiamo Avanti Cioè È troppo bella la torretta ragazzi Se potesse sparare Sarebbe Ancora più bella Ma A noi ci va bene lo stesso Tra l'altro Qui ci sono anche dei pantaloni Di Deadpool Va bene Allora Non Vi ricordo che non possiamo prendere Armi Mentre le cure valgono Mi stavo già Buggando A parte Le spade laser E Andiamo a vedere Se in questa Ma la legge Se raga La vedo grigia Prendiamo anche Parecchi materiali Che ci serviranno Ma La saf È anche vicina Perfetto Ragazzi Perfetto Raga 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 Allora Spada Laser Please Ma No 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 Mi stanno Prendendo in giro E l'ombrello Non lo trovavo mai Quando facevo il video Dell'ombrello Adesso Me l'ha sparato Alla prima Alla prima cassa Alla prima cassa Ragazzi Come è possibile Come è possibile Vabbè Apriamo anche Questa cassa Dai Spada laser La vedo molto grigia Le munizioni Ragazzi Sono inutili Però lo faccio Per la missione Ragazzi Cassa Cassa Rara Forse questa ce le può dare Sono state rimosse Ragazzi Ma come C'è stata la pistola Tra l'altro Proprio per prenderci Il giro al massimo E niente Ragazzi Noi non abbiamo armi Non so cosa Potremmo fare Cioè Dai Vi prego Spada laser Please E niente I materiali Che sono abbastanza utili Please Spada laser Cildone Dai Abbastanza bene Meno qualcosa Con cui ci possiamo Un po' curare Anche se preferirei Un po' più cure Dai Sento già Spari Raga Non so minimamente Come farò Ma come si fa Fa sta challenge Per l'altro Mi Eh eh Yes Raga Spada laser Trova Spata Ma le munizioni Non ci servono a niente Shieldone anche Che ci si può servire Spada laser Lizer Spada Scrivete nei commenti Hashtag Spada laser Ah Primo giocatore Della partita Ok Qui tra l'altro C'è scherzato anche qualcuno Ora che io gli prendo Tanto Ah era uno Ma vabbè Dai Questi sono Dettagli Allora Andiamo un po' Per vedere se ne prendiamo un'altra Pro gg Per la spada laser Che ci ha droppato il gioco Subitissimo Allora Che rumore Che fanno Ma dove sta la cassa Aiuto Cassa Dove stai Cassa E niente Non sta Nessuna parte Fucile a pompa E niente Noi non possiamo prendere nulla Oh ragazzi Io aiuto Un medichitto raga Un medichitto Che è onesto Eh si Vorrei Prenderlo al posto Dello sparabende Anche se anche Lo sparabende È onesto Boh Adesso per ora Lo lasciamo qua Andiamo a vedere se torniamo Al termine di chitti Un scildone Che ci prendiamo Al posto Dello scildino Granate Ci danno Granate No raga Questi me li tengo Per scappare Sono utili A questo punto Un medichitto Lo lascio anche Comunque raga Una spada laser Ce l'abbiamo Una Era il mio obiettivo Abbiamo la spada Di Kylo Ren E con la spada Di Kylo Ren Ci fa trovare Un niente Yeah Le bende Sono inutili Lo sparabende Ragazzi Porca miseria Ragazzi Raga Non l'avevo notata Prima Vabbè Spider laser Ma come Un'altra di Kylo Ren Niente raga No Io le volevo Colestino a tutte Ma A questo punto Un'altra di Kylo Ren La stessa Poi ci ha dato Dai Poteva darcene Un'altra Vabbè Vabbè Io sono già contenta Che abbia la spada laser Qui c'è l'elettricità Cioè ragazzi Con la mia schiena È troppo bella Questa spada laser Ecco C'è un tanto Anche i passi E niente Sono un pollo Aiuto raga Raga Ho troppa ansia Scappi Un attimo Un attimo ragazzi Vi chiedo Un attimo Please Vi chiedo Un attimo Un attimo Che ci ripolliamo Dove sta Lo scillino Ecco sta qua Cioè Non ci ripolliamo Però Ci curiamo un po' Sta là raga Ma non lo amassiamo Un attimo Volevo curarmi Comunque Una kill Per noi Vabbè Era scarso Guardate quello Oh Quante scarse Ragazzi è stato Un piccolo problema Porca miseria Ma come un'altra spada laser La prendiamo E ce la prendiamo Ma dove sta il tipo Raga Mi è sparito Mi è sparito Tra l'altro ho fatto una pollata Ad usare la jump Ma vabbè Ragazzi ma dove è andato il tipo Raga Dove sta Dove sta il bro Aspetta Mi sistemo Il loadout Una volta arrivato Il safesone Ah sta qua Guarda 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 Io non suggerirei Di busciarlo Ma dai Intanto Dobbiamo andare Verso la safe Però non c'è manco Eh questo è un bot È un bel bot Fatemi sapere Se volete vedere Se volete vedere Challenge Col mio secondo account Ma come Ma dove è sparito il tizio Ma perché sparisce sempre Opla Ti prego Dammi qualcosa Ecco Una spada laser Ma No raga A questo punto Me ne tengo semplicemente due ragazzi Perché Se no Non ho cure Cioè Ormai c'ho la spada band Ma Ragazzi E' un bo La gente sparisce Dove sta qui Raga E' tutto Con i loot Certo Noi non ci possiamo Pidare nulla Ma vabbè Dai Andiamo a caccia Di kill I mazzoli Cerchiamo Questa è di Ray No ragazzi Teniamoci queste Eh Ma non c'ho fatto la scelta più saggia Ma va bene lo stesso Va bene lo stesso Ah Qua Ne è molto Ne è molto Ne è molto Quanti vedi Chi ti aveva questo? No 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 Non me lo prendo assolutamente Il medikit Raga Allora 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 boys Attacco Blocca Che bello ragazzi Teniamo questo Raga Salta Tra l'altro abbiamo anche recuperato una jump Comunque alla fine il player di prima Raga L'abbiamo perso Ok raga Solo spade Laser C'ho Al Denge Dai please Please E niente Tagliamo un uomo di palla Riperotti Riperotti La tua La tua Cominazione Non è valida Lega Sia Già Distrutto Il uomo di palla Va bene Anche quello La spada No Cosa Quello No mi sa che Non incontriamo più un abbi Ma è vero che i bot sono finiti Aiuto Oh però però Puoi anche parare con la spada Laser Eeeh Questo non l'avevate Battaglia epica Raga non ho più cose per scappare Aiuto Please raga Urca Raga che fight Doverei unirmi Adesso muoio Vabbè Noi siamo comunque forti Noi Siamo comunque forti Bro Vabbè 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 Allora che io in questo momento Può fare il fare Maledetto Vabbè 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 Aiuto Ciao raga Ciao raga A domani eh A domani No 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 Raga tra l'altro Eeeh Eravamo impaninati tantissimo Raga Eh sto rifacendo un altro fight Eh Guardate Nooo Non pare l'RPG Vediamolo a tutti i costi Raga Cosa è successo Lo sapete solo voi Vabbè Lasciate un like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Grazie a tutti Ciao a tutti i cinesi Oh I